ma le interessate su robin Harry Kane, da profondo Kane, può metterlo da lì tocco profondo per Harry Kane, occhio cerca l'area di rigore, attenzione Harry Kane occhio a Kane, attenzione a Kane, c'è il tiro di Harry Kane si avvicina all'area, c'è spazio in avanti Kurzawa, buono il recupero, possono ricominciare occhio al giocatore del Chelsea, c'è profumo di gol nell'aria da profondo Kane può far male da lì